Mi permetto a questo punto di parlarvi del barattolo dell'emergenza anche perché a profitto della situazione, essendo noi tutti i club nella stessa zona, potremmo anche unirci per fare un intermeeting. Praticamente qual è lo scopo del service del barattolo? Praticamente è stato ideato un barattolo che dovrebbe essere distribuito, comprato dai lion, che dovrebbe arrivare nelle case di quelle persone anziane che magari vivono anche sole e che nel caso di emergenza potrebbe essere un punto di raggiungimento più facile, cioè nel barattolo dovrebbe essere conservata quella che è la patologia del paziente, i farmaci che usa, ed eventualmente conservare questo barattolo in frigorifero per poter raggiungere più facilmente l'eventuale tolleranza, in modo che nel caso di pronto intervento, se realmente i pazienti che vivono da soli, che fossero in condizioni di non potersi esprimere, potrebbe essere utile per salvare la vita di questo paziente. Il service è molto importante, quindi chiedo la partecipazione di tutti, chiaramente noi ci stiamo attivando per coinvolgere le ASL, gli assessori, anche i volontari che eventualmente potranno esserci d'aiuto, poi per la distribuzione, perché questi barattoli eventualmente raggiungono le persone che eventualmente ne hanno necessità. Ringrazio tutti e grazie a tutti.